ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono alessia e questo nuovo episodio della not so berry challenge allora come avete passato il natale raccontatevi nei commenti spero tutto bene io l'ho passato molto bene grazie entriamo nel vivo come vedete vi ho condiviso aurora e la casa di ottom con tutte le ultime modifiche quindi mi riferisco al cavo e l'ho chiamata not so berry arancione e negli hashtag c'è il nome dell'otto originario quindi la trovate vedete aurora lo condivisa ok e niente allora svegliamo la nostra auto perché ormai è tardi e avete notato anche voi che questo luca non è niente male è un gran carino quindi adesso io avevo pensato di farla sporca cioè facciamo colazione mangiamo qualcosa siccome abbiamo st'incombenza che mi piacerebbe realizzare almeno una volta visto che la sbaglio ogni volta quell'opzione è una cosa incredibile sì direi possiamo far così andiamo a ritrovo dei bulli del nostro club andiamo nella palestra dove abbiamo deciso di incontrarci facciamo le risse di quartiere e conosciamo un po meglio non solo gli altri componenti del gruppo ma soprattutto questo luca che niente male con un qualche modifica vediamo non mi ricordavo assolutamente di aver scelto questa palestra ero convinta di averne scelta un'altra però non importa una palestra vale l'altra e anche meglio che sia una palestra in ritrovo visto che noi siamo un ghiottone almeno ci teniamo un pochettino in forma allora il soggetto delle nostre attenzioni è lui sì che in questo momento non credo sia una delle espressioni migliori che è in grado di fare penso possa fare di meglio penso è lottiamo anche dai questo è la giornata delle risse come no lotta anche poi un'interazione perfida no fermi fermi ah troppo tardi vabbè però magari essendo la risse di quartiere come giornata e avendo loro le attività perfide maliziose eccetera magari la prende anche bene beh gli abbiamo fatto il culo è incoraggiante ma non so quanto la loro relazione abbia giovato oddio furiosa no ma no dai ce la siamo un po cercata eh vabbè ma adesso noi cerchiamo di così recuperare in estremis in estremis in estremis e allora gli chiediamo della carriera e cerchiamo chiediamogli qual è il problema cioè siamo noi il problema si sa lo abbiamo capito no fermi tutti il problema ma no l'interazione perfida niente come non detto insulta no insomma pian pianino poi sto sentimento calerà diminuirà passerà non so vedremo allora mi è sparito l'uomo non ho visto da che parte è andato ma forse è andato proprio via il resto cosa volevate aspettarvi allora tu chi sei non lo so è una persona a casa allora a casa sei una persona a casa no sei una persona in palestra tecnicamente non a casa allora io mi presento tutta gentile tutta garbata e poi lotto adesso ti faccio il culo vieni qui vieni qui papà si poi rispondiamo ma ho vinto anche questa ma sono la campionessa del mondo allora io vorrei capire se il mio amico colui che ho spaventato perché gli ho fatto il culo gli uomini sono un po' intimiditi dalle donne forti di potere vorrei sapere se è proprio andato via oppure se ho speranza di recuperare qualcosina vediamo tutti ma tu che sei scusa no mi sa che è andato proprio via Lilith io faccio a botte anche con te picchio tutti è la giornata del picchio duro adesso si abbracciano tutto bene è successo niente sì ma tipo rancore dopo un dissidio Autumn per Lilith e Lilith per Autumn sofferente cioè chiacchiera proviamo a chiamarlo visto che non me lo fa invitare qua non saprei perché tu chi sei? dove c'è? magari proviamo a pacciolare al telefono pacciolare attenzione pacciolare ma se io tipo sto premendo ovunque tranne dove devo premere tipo lo insmsms lui poi mi richiama ah che ho solo sei giorni per sposarmi cinque perché ormai questo è andato ufff uffi speravo la prendesse con un po' più di filosofia invece non l'ha presa niente bene io che non sono in grado di girare il mouse e non so perché ma porca miseria aspettate perché mi sono mi sono istruita coi tasti siccome non riesco a girare ma tu chi sei? con qualche modifica potrebbe non essere male facciamo due parole si dicevo siccome non riesco a girare il mouse non so perché non me lo fa mi sono istruita attenzione mi sono informata sui tasti da da utilizzare per fare senza necessariamente usare il mouse dico che forse vado meglio ma vedete il mio istinto è di andare col mouse perché mi sono abituata ma quindi noi non parliamo con il nostro amico? sono da tutt'altra parte di dove dovrei essere o di dove pensavo di essere ehm dove sei? porca iniziamo a lavorare fra un'ora noi vabbè e facciamo così va bene un po' di tempo guarda che io fra meno di un'ora devo andare a lavorare dobbiamo assolutamente retiperare con l'amico John la... come si chiama? mi ricordo neanche più i nomi pensate voi più il tempo passa più la mia mente fa ci lecca ma allora boh facciamo quante più interazioni amichevoli possibili da un peccato non potersi presentare garbatamente o allegramente si partirebbe già a bomba ma non ci è dato farlo allora adesso noi andiamo a lavorare e io cosa cosa mi succede? rimango qui o mi spedisce a casa? boh lo scopriremo ora non mi ricordavo più di venire spedita a casa quindi nel dubbio ho mandato avanti e ho aspettato che lei rientrasse prima di ricominciare a registrare era un po' assurdo fare il contrario insomma va bene allora facciamola riposare un po' deve anche farsi la doccia eccetera eccetera Lorenzo è bello sentire la tua voce Otto ma volevo chiederti se dovrei approfondire la conoscenza di Sota Okamoto sembra di buona compagnia se fossi in te non lo farei sabotatrice certo che se la gente dovesse davvero dare retta a tutto quello che dici non dovrebbe più vivere e papà per favore madonna ma ho ispirato prima ho ispirato la casa prima di condividervela in galleria perché sennò ve la condivideva polverosa è già ora chi è l'ospirata? non sono neanche mai stata a casa ah Dio nel cielo della terra di tutti gli esseri viventi vannaggia anche il piano di sopra effettivamente vabbè allora io volevo provare a recuperare con l'amico John qui vediamo se arriverà molto presto ok vediamo se mi da un'altra possibilità che ansia sti genitori però mi rompono più le balle adesso di prima che vivevo con loro ordina Luca no scuse eleganti ecco scusiamoci per come ma ma che cavolo ma pensavo avessi aspirato prima ah vabbè giustamente cerca di calmare ma eh sarà arrabbiato con me scuse eleganti lascia stare dovevi farlo piano di sopra non piano di sotto vabbè vabbè faremo dopo smiriusci da arrabbi no 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 ahia abbiamo combinata ma perché male che vada abbiamo il piano di riserva eh raga cioè zero problemi allora fermi tutti fai la pipì e dopo guardiamo un film oddio ma son parenti Luca Parisi Lorenzo Parisi o è solo una sfortunata coincidenza chi è che non guarda un film in piedi come un cavallo ah tasi uffia che non sento il film sì che poi fenomenale guarda un film in piedi io non non ho parole veramente c'è un divano grande sempre perché veramente è più grande della mia voglia di vivere sto divano eppure loro sono in piedi vabbè in più lei doveva fare la pipì prima e invece no allora fuori c'è anche un'ondata di caldo quindi alle ma tu ti vuoi scusare con questo foro Cristo e lui che non accetta le nostre scuse perché può anche essere che sia lui che non scusami sono comportata male ma sono una bruttissima persona no discutiamo delle tecniche di ball chiedi del gusto decorativo no ho troppe azioni in coda ne ho tre mi fa mica questo qua però beh e chiediamoli se stiamo indietreggiando e sì che avrei giurato che sarebbero andati d'accordo visto che hanno più di qualcosa in comune invece qua ascolta io ti imborseggio non mi caghi non mi vuoi ah ah ascoltava a casa ciao se non apprezzi il mio umorismo io non so cosa dirti comunque neanche ieri siamo stati promossi cioè proprio si dice in giro che sei stata coinvolta in più di una rissa ti conviene darti una calmata finirai per avere una pessima reputazione ma è proprio quello lo scopo ma speriamo di essere promossi martedì quando andiamo a lavorare che adesso abbiamo un po' di un po' di pausa e allora visto che con un con un parisi non va che ansia ah ecco dove l'ho conosciuto era il tizio qui arca miseriaccia è vero sì ma questo qua avrebbe bisogno di una bella modifica comunque per poter essere accettabile ma a sto punto siccome il chirurgo plastico sì insomma ci sono passati praticamente tutti i sim che sono venuti qua direi che è anche l'ultimo dei problemi bisogna trovare qualcuno che se la fili soprattutto che poi non capisco è un uomo di colore con gli occhi tipo a mandorla di chiaro genere di film è un verito orrore chiaramente ehi ho un regalo speciale per te visto che i nostri rapporti di vicinato sono così buoni apprezzo la tua gentilezza e amicizia vuoi vedere cos'è? ah mi ti dà tutta altra parte ma che rapporto di vicinato? cosa vuol dire? che senso? vabbè a lei piacciono i film dell'orrore ma non ci aspettavamo altro del resto allora con lui mi sembra andare un po' meglio addirittura si abbracciano incredibile vediamo se riusciamo a conoscerlo un po' meglio perchè abbiamo solo imparato che lui è affiliato due maroni intratto veramente da due maroni ah snob beno gradisce il colore marrone ok vabbè direi che il fatto che lei si sia messa a dormire lì flirtante fresca ed esuberante per l'approccio amoroso ma con chi hai avuto l'approccio amoroso? con Lorenzo eh una delle interazioni che ti ho fatto fare era era flirtante penso a te ma no ma va via ma che cavolo perchè dove vai? allora finchè sei così flirtante mmm qua andiamo a bomba raga approfittiamone che so i magna e ore? oh si 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 raga ha accettato un flirt è fatta è fatta adesso basta solo comportarsi come un essere umano decente fagli credere che siamo persone relativamente per bene a posto buona eccoci qua raga preso fatta fatta è fatta eh dai la loro relazione va talmente a gonfie vele che bruciamo gli step via subito ale con tanto di polvere ah bello su lui mi abbandona la tua recente attività amorosa ha rivelato che Lorenzo è un alieno oh no un alieno però non voglio figli ibridi che abbiano la pelle di un altro colore porca miseria uffi 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 ma perché avrebbero vabbè oddio però il il non avrebbero neanche il il rivestimento mi viene la forma umana no perché sarebbero ibridi sarebbero misti dio santo no però c'è un modo nel caso in cui io posso levargli quella benedetta forma da alieno cioè non farlo alieno si può se si come uffi in totalità quando troviamo uno che ci piace è un alieno cioè no lei non è impensabile che per lei ci sia qualcuno di normale allora proviamo a vedere leviamoci subito il dubbio raga la facciamo sporca un attimino eccolo qua bollette 32.000 what va bene allora tasto shift pigiamo su di lui modifica in cas e andiamo subito a vederlo questa è la forma aliena del nostro Lorenzo Parisi va bene ma io non voglio figli ibridi santo paradiso la forma umana la possiamo variare un po' come ci pare è ok ma esiste un modo anche utilizzando un trucco in cui si rimuove la forma di alieno e si tiene solo la forma di essere umano è possibile una cosa del genere? o sto cianciando per niente? perché io non voglio un figli cioè non mi piacciono i sim ibridi cioè se sei alieno hai la forma umana è ok però l'ibrido mi viene con la pelle azzurrina e questi colori che dobbiamo mettere per queste generazioni se fosse la generazione blu sarebbe anche figo ma non lo è la prossima la generazione blu la generazione blu è l'ultima quindi vi lascio con questo interrogativo fatemi sapere nei commenti se no cambiamo cambiamo target amoroso e niente lasciate un piaccio al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao